Di neve ne è caduta meno di quanto annunciato, forse con troppo allarmismo nei giorni scorsi. Uno strato sottile nelle zone montuose, a partire dai 500 metri di altitudine, non più di 15 centimetri nei paesi più alti, come Faeto e nelle aree interne. In provincia di Foggia a creare i maggiori problemi sono state le forti raffiche di vento da nord, che hanno reso ancora più intensa la percezione del freddo, provocando un crollo delle temperature e facendo ghiacciare la poca neve scesa, creando insidiose lastre di ghiaccio lungo le carreggiate, soprattutto quelle dell'entroterra Garganico e dei Monti Dauni. Qui siamo tra Castelnuovo della Dauni e Pietra Monte Corvino, sul versante settentrionale del Preappennino. Pochi centimetri di neve, non più di 5, ma tanto freddo e vento gelido che hanno provocato sin dal mattino la formazione di ghiaccio sulle strade. Nel corso della giornata la temperatura non ha superato lo zero nei punti più alti sui Monti Dauni, come sul Gargano. In entrambi i casi, in nottata, la colonnina di mercurio è scesa fino a meno 5. Proprio per evitare i rischi, la maggior parte dei sindaci del Preappennino Dauno ha disposto la chiusura delle scuole per la giornata odierna. Stessa cosa anche a Monte Sant'Angelo e San Marco Illamis, sul Gargano. La situazione però andrà lentamente migliorando nelle prossime ore. Non ne vicherà più, anche le temperature saliranno gradualmente. Lo dimostra anche il provvedimento del prefetto di Foggia, che domenica sera aveva ordinato fino alle 12 di martedì il blocco del transito dei mezzi pesanti superiori alle 7 tonnellate e mezza su tutte le strade extraurbane, salvo revocare la decisione in mattinata a seguito del miglioramento delle condizioni meteorologiche.